Buongiorno a tutti. Abbiamo commentato qualche giorno fa l'ordinanza con cui la Corte d'Appello di Roma ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale inerente alla valutabilità dei servizi prestati presso la scuola paritaria ai fini della carriera del personale docente. Bene, se questa è la presa di posizione dei giudici d'Appello di Roma, tuttavia la Corte di Cassazione continua a confermare il suo orientamento negativo circa la valutabilità di questi servizi. Infatti dopo le sentenze con cui nel dicembre dello scorso anno la Corte aveva negato la validità di questo servizio sia ai fini della mobilità del personale docente sia ai fini della ricostruzione di carriera, con una ordinanza depositata lo scorso 10 novembre, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto a suo tempo espresso e quindi mantenuto fermo il proprio orientamento in materia. In particolare la Corte di Cassazione contesta che se il legislatore ha sostanzialmente equiparato i titoli rilasciati dagli istituti paritari rispetto a quelli rilasciati dalle scuole pubbliche, quindi a tutela degli alunni che frequentano le scuole paritarie, dall'altro non ha messo sullo stesso piano il personale che presta servizio presso le scuole paritarie con quello che presta servizio presso la scuola pubblica, ha tenuto conto della differenza sostanziale a dire della Cassazione del sistema di reclutamento del personale delle scuole paritarie che sostanzialmente agirerebbe a dire della Corte il principio del concorso pubblico di cui è l'articolo 97 della Costituzione. Su questo punto la Corte d'Appello di Roma ha qualche dubbio evidenziando il paradosso secondo cui se il servizio prestato presso la scuola paritaria è valido ai fini della progressione all'interno delle graduatorie prima permanenti e oggi ad esaurimento proprio per poter accedere nei ruoli della pubblica amministrazione e nello specifico nei ruoli del personale docente non si capisce perché questo servizio se è valido a quello scopo il giorno dopo l'immissione del ruolo non assume più alcun valore né ai fini della mobilità né ai fini della progressione di carriera. Questi sostanzialmente sono i quesiti che la Corte d'Appello di Roma sta ponendo alla Corte Costituzionale. Tra l'altro si pone il dubbio di costituzionalità laddove ancora il testo unico 297 del 94 valuta i servizi nella scuola pareggiata, quelli prestati fino al 2005 e non quelli successivi prestati presso la scuola paritaria. Quindi questi sono i profili di criticità che ancora la Corte d'Appello di Roma sta ponendo all'attenzione della Corte Costituzionale, tuttavia come abbiamo detto la Corte di Cassazione rimane ferma sulla sua convinzione della non valutabilità di questi servizi e quindi adesso l'ultima parola aspetterà alla Corte Costituzionale e vedremo come si scioglierà questo annoso problema. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.